Ed ora la situazione ad Ancona, pochi al momento i danni ma è tornata la paura. Aperto per la notte il pala indor, annullate tutte le manifestazioni pubbliche. Il servizio di Claudio Sargenti. Il quadro si era già delineato subito dopo la scossa delle 7.40. Questa volta il terremoto non ha risparmiato neanche Ancona. A metà mattina erano oltre 350 le richieste di sopraluogo arrivate ai vigili del fuoco dei vari distaccamenti della provincia. Oltre 150 i vigili impegnati per tutta la giornata ma a differenza dei giorni scorsi quando l'area interessata era soprattutto il Fabrianese questa volta il terremoto ha coinvolto anche il capoluogo e i centri limitrofi. Chiuse per il ponte fino a martedì le scuole le preoccupazioni si sono subito rivolte agli edifici pubblici e a quelli privati. Per precauzione sono state evacuate la casa di riposo di Maiolati e il pronto soccorso dell'IRCA di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti anche all'ospedale dei bambini salese e a Villa Maria. Fessurazioni nei canterti e quanto riscontrato alla fine delle verifiche niente di pericoloso dunque non solo negli ospedali che a fine mattinata hanno ripreso l'attività ma anche in alcune caserme e in altri edifici della città. Qualche danno in più invece si è registrato alla biglietteria di via Inaudi della stazione marittima. Più seria invece la situazione in due palazzine nella centralissima Vallemiano complessivamente 28 appartamenti per altre tante famiglie. Lì le verifiche sono andate avanti per tutta la giornata a dimostrazione appunto della delicatezza della situazione. Ma intanto il sindaco della città Valeria Mancinelli in via precauzionale ha alertato il COC, il Comitato Operativo Comunale. Ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche ma soprattutto ha deciso di aprire per la notte il pala indoor per quanti decideranno di non tornare a dormire nelle proprie abitazioni per paura o perché non sono state completate le verifiche. Infine questa mattina una ventina di anconetani si sono presentati al pronto soccorso a Torrette. Hanno chiesto l'intervento del medico per la paura e il panico. Grazie. Grazie.